Johnny's Goldies tra 2 ore 20 maus o menos nos sta conversando con os invitados del programa de tour dia esta Johnny's Goldies e awe ta pa nos un placer pa nos conversar con o senor Eric Venk quien de ta visitandonos awe de nos programa de tour dia a través de Hit 94 un saludo cordial, bon tardi, bon vini de Johnny's Goldies nos ve papi un tiki amplio awe riva materi en anco yaba nami pa nos por conversar e voce, pero un saludo cordial ta bom pa entere poblexon urbano macha, macha tanke pa e invitación Johnny e sigur pa boa audiencia un saludo cordial bueno, esta clapa nos conversar con o senor Eric Venk awe de Johnny's Goldies riva 94.1 megahertz Eric Venk te va a especializar riva parte di studio enseñanza etc, etc senor Venk como te mira parte di enseñanza actualmente na ruba particularmente parte di mavo ya como te va a te explicarme alguna cosa pero la otra bomba va a duna e poblexon urbano va a pensamento segun 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 y querida audiencia mi informacion lo vai directamente en nabo si otro enden arriva a otro rango di educaxion y di politica que el giselle perfecto pero me está preocupando especialmente que el pueblo de Aruba ultima y a base de aquí como te va a dar informacion aquí Johnny a base de hecho que ultimamente sali de medionan que mi y yo a slag como medico cirujano cardiofascular cirujano cardiofascular en Bogotá y nos hagan más más llamada y para bien y la otra persona en la cual donanos para bien nos está más agradecido nos está contento me llunan aguardo de homeschool mi mesa homeschool tanto lag como fort que sea donde veis entonces estaba por motivo que ya acababa 30 años pasado mi no estaba gusto el sistema de educación entonces en el momento después de ir estudiar y no distancia con mi no quiero y no voy entonces me está contento para dar para bien con nosotros pero en el mismo momento Johnny es preocupación de crecer ahora mi mira aquí en la nos está ventando nos está ventando y el human capital que nos tiene entonces un decenso de grande mente en mavo de como que para abrir mavo motivo que el año me ayuda como en fal docente en diferentes escuelas en mavo y es aquí está ro pic la para ir en detalles ¿qué como mira con falda de mavo bueno mavo aguardo en mavo aguardo de solví en año 2001 2002 no estamos en 2024 en año aguardo de solví en Holanda mira 20 años back fue de 1980 y la cantidad de alumnos trabajando drásticamente no bien constató si no no se bueno yo si así la mayoría hay un EPI por ejemplo un MTS entonces yo en un dado momento no vale la pena mantener un sistema mavo para un candidato chiquito no no arrasele no decidí cambiarle no cambio sistema bió que no introduzí VMBO no dissolver mavo gente de mes tenía un cariño para mavo entonces en Holanda alguna escuela que dame mavo pero Corzó Boneiro Saint Martin durante días a dissolver en meso que va half mes 80% quizás no te sigue entonces tiene un problema ¿no? 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 Aruba no quiere aceptar que es medio para escoger el stop de existir eso mavo representa más o menos un medio bar un average entre LTS y 70 un continuación de mil o que por sí correcto aunque de meses tampoco no está por el bar y mavo bien cae que me en un tal momento es una tendencia que 19 80 años e quello che ha avuto deciso di trovare a decidere che questo tempo è troppo un po' perché era un po' perché è un po' che adesso. No, si ormai anche un po' sicuramente è un po' che è un po' che è ora sono un po' mafo baci però non c'è un po' si può addirittura di di un po' o, questo l'anno tra poco e ma ok, nel momento io gli ho detto non ti sa così, però fai ambella mescose con mavo, nei quando sei trelle, cosa ha fatto che non è vero bene? e, conseguentemente, è molto una volta che ti ho fatto forza con materia, non e con un conoscimento né di l'anze tal non, non può ma scuola, è molto non mavo, non sta papiolandese, non sta papiolandese ma quasi, stai ma scuola, e docenti non, quasi non sta papiolandese ma uno sape, non è extra papiolandese ora, un pregunte, papiolandese però tu le asano gozzi non ho l'anze, stai traduzendo papiolandese? non, 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 non non sta forza, è molto non, non sta forza, è molto non, non perché ho l'anze, perché non passo ma la scuola con l'ag현ia, non è mai preparato. Non è un po' di fatto che all'estero e un po' di sotto, ma la scuola in l'ag현ia. Perché lui non è un po' di risposta, ma il riconoscerebbe, però c'è il problema che si è avuto da scuola con l'ag현ia. Come è questo possibile? Ecco, per la scuola di l'ag현ia. però non mi sa vista così però io forontavo le jabon io forontavo le jabon di regio, non si s'eslai over e vissima non sta passando la bala ma si è flatta la bala non sta passando un po' di più ma è il nico il nico è debilità, non? è parte laboral è debilità è debilità Sì, perché ci sono stati, a metà di una economia che vedi, di parte di un massaggio di economia, è molto più interessante di un'esperienza di fare le relazioni e di regra. No? Anche questo, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile, non è possibile. Non è possibile andare a rancare. Se voi, Sì, Johnny, quanto ti vuoi rancare nel mare? Perché sono qui per rale? Voi te spanto. Voi te spanto. e non ci stanno da un momento mi sa Insolato, non ci stanno da un momento con cifras per sobra, non c'è nessuno perché non era poco quindi non c'è nessuno ma non è un'esempio cosa dove esimpio dove es Symgli avevo un stop di 33 o 32 ore non c'è nessuno ma ci sono mesi, ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno per dominare, non c'è nessuna opportunità per dominare, automaticamente ci sono due o tre, ottene le persone, e le altre non, non sappiamo, non c'è nessuna cosa, non c'è nessuna cosa, non c'è nessuna cosa, le altre non hanno, quindi cosa succede? noi stavessi creare io ero un giovane noi stavano invertire 4 anni di una vita 4 anni di una vita per non sapere che succede per chi? per chi? per esempio un buco hollandese che sta lavorando per l'economia di Holanda non c'è un capitolo dedicato al turismo sendo che Aruba è il suo pilar economico e di come non è un sistema di insegnarsi? è una buona domanda a purva a purva a urbanizzare per la notazione non solamente come dice Vremen Drossman non non c'è un l'uomo non c'è l'uomo non c'è l'uomo non c'è l'uomo è la mentalità io non c'è l'uomo non c'è l'uomo un altro numero rubiano e così è tutto è la mentalità di compra è la mentalità di venta è la mentalità di export import è totalmente differente quindi non quindi un po' lastimamente è un po' che è un po' che è Johnny è un po' che è apparentemente un candidato grande è un po' che è un po' è un po' è un po' mi chiede che è questa bomba mi chiede non sai cosa stai robando però già che bocca è così di arriva è cosa viene non è che vai arriva è stata in la politica però è cosa che non sta ora qui è cosa che ti ha bastanti di andare in però non ti ha un instante che ti ha un poder máximo per trecere un cambio arriva e leer qui arriva insegnanza qui apparentemente no Johnny apparentemente non ti ha passato non ti ha un direccio on the rest con nos economia local con nos problemi socio-economico local asunto di idioma stop di cance molto non ti ha hollandese 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 di un sistema nuovo di insegnanza per caribes hollandese 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 a decidir a decidir a decidir dame un ejemplo un par de anni passato con un colega per ajustare a norma a nivel di mafo per sobra colegio a criticare e EPI a criticare non ti ni conoscimento ni insert riba lo che ta economia por favor haci algo nage menester tempe a decidir a decidir adunan o que e fondanan pa nos tra riba je con pare colega anto nos a llegan e conclusión co lo che ta tindin va que meser as plecce economia no ta bedra escond e ta economia duidel la economia totalmente otro por bedra escond bedra bedra escond como administración book ho d g johnny et beru na mundu ta dun mas tanto trabou ta essai ta bedra escond por tur cam de administración por lo menos tur cam de bo book ok quita so so de e ori ora co a bin clark no sa mira uno meser split e vacan e ten na aparte pero mes co jaja po colegio si ten economia como vaca aparte e tin budra escond como economia aparte si o dico nan si un to ma o no pasa holanda a enano se mire e borrach on un dado momento holanda a fex holanda tinseng holanda to maneja ecurriculum pero aqui nan supuestamente no so por paso no tin lugar no tin lugar den den ecurriculum paso tin mucho facaba no sin facan que ta pisando que no me sete mes tampoco pese joni mita estima papiamento mita cantana papiamento pero papiamento pa mi como economista la que nos visa e nota pas en os curriculum pa kiko no tin ni un bedraif que ta exigir que vome se papiamento no tin ningun verboll hableting que ta pidibu no si no tin papiamento bom podrenta no tin si no sta si no si no sta responsable pa soro pa nos pa lo que no se ama no pone cos cun n te pide algo completamente novo exactamente algo full novo caribe holandese no solamente ergo pero caribe holandese si si s s s martin tur correcto si y así no es sin leo fe otro angel que ta posible por bien un un diferencia de n tambe and that's fine and that's fine me con que te disfrut et un tutti frutti un cocktail exacto pero so quita so so de man tiene poco de un de bisa e e mener es col que si no ti hende capacita si ti si ti y si no ti va te manda na prepara pa botín no des ese no me set problema et al o si no se que me ti maestro no te prepara pa si sei a te re pa kip te pagana maestro ti miedu di stekten maestro na ti miedu aflacano de direkter na ten te ma se stai conto, però il direttore che stai bene, non ti ricordi, ti ha miedo di stessi, per il suo pang, ma come me? E di miedo di stessi, di miedo, di direcci, di inspecci. Di politico non, anche. E, anche, non, ti ha miedo di politico non. E politico ti ha miedo di essere maggiori. Ti ha miedo di essere maggiori. E pensi che mi diceva che dirigi informazioni che non è maggiori, perché se è maggiori non è per arrivare, per non è una educazione che vale la pena, ma ti hanno bisogno di un'educazione di quattro anni, ora non sa niente. E non può niente. Non ti farà di credo non per trattare. La tende rupi costa, non ti non è la queda. Torri, quanto è slagge l'examen, Anto? Sì, sì, non è buona, pregunto, se non ti ho capito, non ti ho capito, non ti ho capito, right? A ora che non mi è un esempio di economia, economia è di due anni, non si stai bene, quando non sta passando l'examen. E non sta passando l'examen, sì, Quindi tutti salienti, non sono domini, non sono domini, non sono vero realistico, come on, non sono domini la lingua hollandese, quindi è un abuso con l'angelo. Per noi domini la lingua hollandese non sono vivo con l'angelo, non sono vivo con l'angelo, non sono più che la lingua inglese, che il spagnolo, con l'angelo. Sì, esatto, e non stava vivo con un tempo, è un asunto di choice, un maestro dice sì, però è che ora qui non c'è nessun cammino di un tratto di hollandese, non è vero, se vogliono installare un turboparato, un turboparato con un botino in hollandese. Ora qui potete un satellite, potete un sistema di internet, potete un turco di television in hollandese. Turco di un botino, un radio in hollandese. È, esatto, però, sì, c'è appatia in hollandese, quindi non c'è problema, però mi preoccupazione sta, caramba, non sa ben tanto in affoglio. Portanto, mi ha detto una miglior guia ai alumi, non? Mi ha detto che, e se la gente non guia, non c'è questa domanda, non c'è questa domanda. Non c'è questa domanda, non c'è questa domanda, non c'è questa domanda, non c'è questa domanda, strutturale, per il asunto di idioma. Non c'è questa domanda, non c'è questa domanda, non c'è questa domanda, non c'è questa domanda, che quando mi ha dettodah vitale, non c'è questa domanda, non c'è questa domanda? Non c'è questo domanda. non colpiamo che mi notazione abbondano poco a me per esempio come un maestro mi intervista non l'acca nincun gente bisabbo che hollandese non è buono per esempio tutti gli studenti che non hanno che si sono un uomo e un uomo non è buono un uomo è buono per esempio per un uomo o qualche altra funcione di livello alto e non so pianto un febio un uomo un uomo è buono un uomo è buono non c'è un problema in l'Olanda ma non si può non c'è ma non c'è ma non c'è un uomo è buono un uomo è buono con il migliorno non c'è un po' di tec no in questo non c'è per esempio chi è un uomo chi è un uomo chi è un uomo chi è un uomo ma mi ricordo un po' di non c'è un uomo un tuts, e tuts stava arrivato a toccare l'arbeid, l'arbeid non stava parlando arriva e c'è un negozio che mi stia dimenticato, poteva un'advertencia, l'arbeid, e ti avisa qualcosa di un luogo che attraevo, l'arbeid, l'arbeid, il negozio stava tarduna, e ti avisa ben più flessibile. Non pare molto... E' un'eferenza tra boll e horario. Exacto, faccio per capire. Exacto, exacto. Per non lo capite? No, un pare molto non ha scrivito, e per colmo se dava un ultimo frasco, si va, si è buono, vai un extra pen, dava una extra pen. Correto. Non, non voleva scrivere, tampocco. Estraio, non voleva fare niente, no? Scrivei qualcosa. E' di una maniera, ma risparà è jodito in una maniera negativa. E' di, come no? E' di, mi non ten gana di haia, mi non ten gana di hende punta, si è molto flessibile, e la pensa con la sua curva. E' la malintenzione. Exacto. Flessibile è lo a fare, perché stava dentro di un ristorante, e la chiede, io sape, e mi sarebbe così pole dancing, o fare, no, 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 no. Lo che non ha fatto, 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 è più difficile, di quello che non ha fatto. E' di un rio, ma profondo. sì, 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 sì. Anyway, in fin, ma sono state dalle per la visita, a la tarde, di Johnny's Gollis, tremenda conversazione, mi sono invitato, ma nella prossima settimana, per noi continuare la conversazione, che è la tua materia, è molto importante, per noi per la educazione. E l'ultima domanda, ma ti chiede, non lo vai che da Holanda, per fare ieri a me, mirando la tua debilità, qui? No, non lo vai fare da Holanda. Lo che non sta facendo, sta, non sta entregando, non sta entregando, non sta messo, na Holanda, riva terreno financiero, ora, che sa, che cosa ha, qui con la nota, mira, na riva terreno di educazione, con un dado momento, non ti non ti ho, non ti ho, ma over. C'è un sogno, non ti è caribese, non? Vai dirmi no ma, che un dia, sogno con un stolo, vire independente. No, 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 è economicamente, è impossibile. È anche un sogno. È impossibile, è impossibile, è impossibile, è impossibile, è impossibile, ninguém pensa che hanno un progn ace, nel quasi 3, lo%, tiene un futuro con un progn use. lo che non si compra il 부탁, è necessità. durante knock, però non ti ho senti, se vuoi metti, tu pensi che sia di Holanda, che sono dei punti con il spazio, però, di Holanda che è manipulato, cioè, se ti è gusto. Lò, anche tu cosa, perché non ti trovi. No, non tenía corальza, non? Corraggza. Non ti ho coraggio, anche, per analisare, Defendere l'educazione Per poter mangiare Per poter essere orgoglioso di avere un'educazione Di livello Per ugualare un'altra cosa Exactamente Grazie mille E spero che è successo Tremendo programma E spero che dopo che ci si mandi a YouTube E ci sia più reazioni E programma Grazie mille Un saluto alla buona Grazie mille